Entriamo nel vivo dell'ondata di caldo africano che interesserà soprattutto le regioni centro-meridionali con punte anche di oltre 35 e 36 gradi. Abbiamo già detto che però nel weekend arriverà aria più fresca e che porterà ad un abbassamento delle temperature. Allora vediamo, stando agli ultimi aggiornamenti, quanti gradi potremo perdere. E notate come entro la giornata di sabato potremo perdere fino a 5 e persino 10 gradi sulle regioni centrali, in particolar modo sui versanti adriatici che potrebbero passare da punti di oltre 33 e 34 gradi a massima anche inferiore 25 e 26. Ma entro domenica e lunedì il fresco arriverà con tutta probabilità anche al sud dove addirittura potremo perdere fino a 10-12 gradi. Una situazione ancora comunque estremamente dinamica che necessita di ulteriori aggiornamenti e conferme, aggiornamenti che potrete consultare anche scaricando la nostra app gratuita per tablet e smartphone.